Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti a questo nuovo video. Che cosa ci faccio con una papera di Lego in mano? Ha a che fare con Lego Serious Play? Guardate fino alla fine per capire di cosa si tratta. Che cos'è il metodo Lego Serious Play? È un metodo con basi scientifiche inventato circa 20 anni fa che permette di fare delle riunioni in cui tutti parlano, si scambiano delle idee e non le solite riunioni in cui per l'80% del tempo ci sono il 20% delle persone o una sola persona che parlano. Si usano i Lego a che fare con il gioco ma è un metodo molto serio. Il Lego è solamente un tramite per tirar fuori delle idee, costruire e poi scambiare le proprie opinioni con altri. Quindi come dicevamo attenzione perché ci sono i Lego ma nulla a che fare con il gioco ed è un metodo che assolutamente non va preso sotto gamba ma è un metodo molto potente. C'è una buona notizia, ci si diverte, è un metodo che permette anche di divertirsi durante il workshop. C'è una cattiva notizia, le sessioni di 20 minuti, 20-25 minuti che faremo dovrete tenere spento il cellulare. Alla fine di ogni sessione quello che vi consiglio è portarvi un blocco per gli appunti in cui segnarvi le idee emerse durante la sessione e comunque di fotografare la miniatura che avete costruito. Partiremo in maniera molto facile, man mano alzeremo il livello di difficoltà. Quello che conta è non dire non so cosa costruire riguardo l'indicazione che ci hai dato. Quello che conta e che domina in questo metodo è il mattoncino quindi fatevi prendere dalle vostre mani dalle vostre idee e iniziare a costruire man mano le idee emergeranno e proprio quello che emerge la fase veramente importante. Non sottovalutate assolutamente o almeno questo è il mio consiglio quello che andremo a fare in questo workshop anzi i risultati che emergeranno le idee che scambierete con altre persone riguardo nel vostro contesto lavorativo in cui che di solito non riuscite con cui non riuscite a parlare non perché non lo vogliate fare ma perché spesso non c'è il tempo e modo di farlo. Con il metodo probabilmente queste cose emergeranno e sarà facile comunicarle agli altri in maniera molto importante quindi state attenti a non sottovalutare il metodo. Bene ora siamo pronti per giocare insieme seriamente vi aspetto un saluto ciao